Con la presenza del noto giornalista, filosofo e scrittore, Marcello Veneziani, è partito ad Atria, l'auditorium di Sant'Agostino, il primo di una serie di incontri organizzati dalla neonata associazione Più Abruzzo. L'associazione, ha spiegato Angela De Lauretis, ha l'obiettivo di rivitalizzare lo slancio e la passione della parola, del dialogo, dell'interesse per tutto quello che accade nella collettività a qualsiasi livello. L'associazione nasce proprio dalla volontà di un gruppo di amici che non hanno mai smesso di credere che il senso della comunità, inteso come condivisione, momento di confronto, debba essere preferito all'individualismo e al pessimismo sociale e culturale, che ormai pervade insistentemente ogni manifestazione civile, sociale e culturale. Primo tema affrontato nel corso della serata dal giornalista Marcello Veneziani, il futuro della nostra Italia. Una domanda che sorge spontanea, da un suo punto di vista che Italia si aspetta? Innanzitutto bisogna sperare che sia l'Italia, nel senso che il dubbio che in questo periodo sta crescendo è che l'Italia sia destinata a perire in qualche modo, cioè a sciogliersi, a perdere la sua sovranità, a perdere la sua dignità. E quindi il primo problema è quello di superare l'idea che l'Italia possa sparire. In secondo luogo, sicuramente le premesse non sono confortanti, però siamo di fronte a un punto di svolta e quindi credo che in ogni caso si debba aspettare la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, perché non si può immaginare che il vuoto prevalga per sempre. Di conseguenza il tentativo che si fa, quello che sto facendo anche io, quello di leggere cosa sta accadendo e vedere le potenzialità promettenti in un ambito che non lascia spazio a grandi promesse e vedere se possono sorgere delle forze, ma soprattutto delle energie, in un paese che sembra oggi rassegnato a un declino. Invece sarebbe il caso di riprendere a ragionare del proprio futuro. Attraverso la sua attività, l'associazione Più Abruzzo, con l'evento di ieri sera, intende partecipare anche alla ricomposizione delle reti culturali e sociali del territorio in cui opera e di quei luoghi che nel passato ne hanno caratterizzato la storia e la cultura, come spiega anche l'assessore Domenico Felicione. L'associazione si chiama Più Abruzzo ed è un'associazione nata appunto con i componenti, sono tutti amici insomma che hanno della passata amministrazione e dell'attuale, che appunto vogliono animare il dibattito non solo culturale e politico, per aprire appunto una visione più ampia rispetto a quella locale, che appunto non solo la politica ma la cultura a 360 gradi. Ci saranno grandi nomi della politica, del giornalismo, della cultura. Ci saranno altri incontri nel prossimo futuro, adesso per il momento lo stiamo mettendo a punto, questa sera la serata iniziale con un grande filosofo giornalista, che appunto Marcello Veneziani ci sembra appunto di un modo grande di iniziare questa grande avventura che appunto l'associazione si prefigge e affronteremo un tema importante che sarà appunto il futuro dell'Italia, ci troviamo a un punto cruciale, molto delicato e con lui questa sera affronteremo appunto quale sarà il futuro del nostro paese. Oggi l'esigenza più insistente è quella di interrogarsi circa il futuro consapevole delle nostre azioni nella pratica quotidiana dell'essere cittadini, scrittori, poeti, politici, genitori, amministratori, professionisti, manager, imprenditori, al fine di partecipare in maniera propositiva e non più semplicemente disfattista e negativa alla costruzione di un futuro che abbia speranze per tutti. Gli obiettivi invece sui quali puntare per un rilancio dell'economia, secondo lei quali sono? Ma io credo che innanzitutto il primo problema sia quello di non risolvere i temi italiani nell'ambito dell'economia, cioè ritenere che la forza del nostro paese non sia e non possa essere l'economia e non ritenere che il debito sovrano, come oggi si chiama, possa diventare l'unica chiave di lettura per un paese che vuole liberarsi da questo asservimento finanziario. Quindi bisogna ragionare in termini di energie positive che sono di tipo intellettuale, civile, creativo, imprenditoriale e non soltanto di questioni economiche, di debito finanziario, di derivati tossici, di spread e così via. Riprendere in altri termini una via della dignità e dell'autonomia creativa. L'incontro di ieri sera quindi insomma è l'inizio di un lungo percorso alla riscoperta dell'identità civile articolato in incontri, attività sociali e culturali che vogliono rimettere al centro dell'attenzione le responsabilità e soprattutto il talento dell'essere appunto cittadini. Se non si chiocchi, dirett cittadini, non si sono aiut selfish. Allora, grazie. Grazie a tutti